Il cristiano deve saper vivere la logica del dopodomani, che non si ferma al presente ma guarda con fiducia alla risurrezione della carne. Lo ha spiegato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato il passo della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, nel quale l'Apostolo ricorda che se Cristo non è risorto, neppure noi lo saremo. La logica è quella della redenzione fino alla fine, perché noi risusciteremo come Cristo con la nostra carne, anche se trasformata, e Paolo mette in guardia dalla pietà spiritualistica, sarà tutto spirituale, per dirci invece che dobbiamo entrare nella logica della carne di Cristo, che è difficile perché solo la logica del presente e del passato sono concrete. La logica degli ieri è facile, la logica dei loci è facile, la logica del domani è facile, tutti moriremo, ma la logica del dopodomani, questa è difficile. e questo è quello che Paolo vuole annunziare oggi, la logica del dopodomani, come sarà quello, come sarà quello. la risurrezione. Cristo è risorto. Cristo è risorto e è ben chiaro che non è risorto come un fantasma, eh? nel passo di Luca, della risurrezione, ma toccatemi. Un fantasma non ha carne, non ha ossa. Toccatemi, datemi da mangiare. la logica del dopodomani è la logica nella quale entra la carne. in Szento salmon Nacca. Quindi a Robini a droppedi ieri corris Viking Age 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 box. Grazie a tutti.